Per salvare un cuore ci vuole il tuo intervento e questo è il titolo dell'iniziativa che ha abbracciato l'associazione Quo Vadis di Favara, di che cosa si tratta? Sì, questa è una manifestazione di carattere nazionale, avviene in 180 piazze d'Italia e l'associazione Quo Vadis in collaborazione con la fondazione Aiutare i Bambini ha aderito a questa iniziativa per raccogliere i fondi per riuscire ad operare al cuore i bambini malati dei paesi più poveri. Chi vuole contribuire che cosa deve fare? Deve fare una donazione, un gesto simbolico, un'offerta qui al nostro banchetto e riceverà in cambio un addobbo natalizio a forma di cuore o un cappello di babbo natale che è simbolo dell'iniziativa. L'associazione Quo Vadis di che cosa si occupa? La nostra è un'associazione di volontariato, si occupa di assistenza socio-sanitaria, grazie a delle donazioni private siamo riusciti ad acquistare un'ambulanza di tipo A che ha tutte le tecnologie moderne e l'area condizionata. Stiamo attuando dei servizi tra i quali abbiamo delle medicazioni infermeristiche che facciamo nella nostra struttura che si trova in via Firenze numero 4 qua a Favara a secondo piano e facciamo anche dei prelevi a domicilio.